Ora secondo me le nuove generazioni dovrebbero trovare il modo di aver fiducia in se stessi e essere sicuri di se stessi in tutto quello che si fa dovrebbero aspirare a darsi delle possibilità vuol dire costruire un ventaglio di possibili opportunità e guardare al futuro e vedere anche proprio quello che fanno anche gli altri giovani Io credo molto nell'ispirazione data dai falimenti altrui perché dagli errori si impara tantissimo non bisogna avere paura, credo che questa sia un'ispirazione fondamentale perché ti dà il coraggio di osare Grazie